Buongiorno amici, sono Diego Piras e sono l'amministratore di Omicron Group. Sono qui per un invito importante. Nel sud del Madagascar c'è un villaggio che dopo 30 anni di crescita ha raggiunto la bellezza di 10.000 abitanti. Questo villaggio si chiama Zangani. Io e la nostra azienda seguiamo questa crescita con l'associazione Amici Zangani sin dall'inizio. Prima con il progetto per la scuola, poi con gli altri progetti sulla salute, l'energia e la nutrizione. Abbiamo sostenuto questi progetti per dare un'opportunità di vita e di sviluppo a gente lontana. Ma che ci sta a cuore? Ogni risultato raggiunto è stata una grandissima emozione. Ora, dopo 4 anni di siccità, è necessario affrontare l'emergenza idrica con la popolazione di Zangani. I pozzi realizzati in questi anni si sono totalmente prosciugati ed è quindi necessario scavarne degli altri a maggior profondità. Questo è il motivo per cui aderiamo al progetto Zangani a sete, acqua per vivere. Puoi farlo anche tu, basta un clic sul pulsante d'onora. Grazie. 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 Grazie.